Ciao Ilario, guardami bene negli occhi, ultimo avviso. Prima cosa, c'è una differenza tra la richiesta di aiuto e dare delle informazioni. Quando chiedo aiuto sono esplicita e chiara, uso proprio le parole ho bisogno di aiuto, se non uso queste parole vuol dire che di aiuto non ne ho bisogno. Secondo punto, ho risolto con l'IREN, no che non servano le associazioni dei consumatori, basta scrivergli una bella mail dove li minacci di chiedere consiglio alla guardia di finanza, si è risolto tutto, ottenuto appuntamenti, spostato a domiciliazioni, tutto a posto. Terzo punto, il modulo ISE, il modulo ISE non è stato ancora consegnato a mio marito perché non glielo consegnano più se lo deve stampare a sue spese attraverso un'applicazione che non funziona e si dà il caso che ti può finire l'inchiostro e te lo devi andare a comprare sempre a tue spese così come a tue spese se hai bisogno di una ricetta te la devi stampare. Quarto punto, costo delle mascherine, ricordati che le mascherine sono un simbolo come la camicia nera e come la tessera del partito. Io sono 73 giorni che non la indosso e non avendola indossata non solo ho risparmiato una cifra che arriva fino ai 140-150 euro, ma ricordati bene una cosa, che se avessi dovuto contagiare qualcuno come un untore, allora avrei già contagiato almeno 4-5 volte quelli che mi circondano. Truffa del virus, io ti ho mandato le informazioni per darti l'opportunità di riflettere e di valutare se è vero o no quello che ascolti tutti i giorni dalla televisione e dalla radio. Fratello, io non uso né radio né televisione, da oltre 10 anni sono meglio informata di te. Ti do quindi tempo per riflettere Ilario, non ti permettere di sottovalutarmi, non sono più lunga 50 centimetri, non mi devi cambiare i pannolini e ho fiducia in me stessa, tanto quanto ne hai tu, ma sicuramente la fiducia che ripongo in me stessa è quella meglio riposta. Infine, siccome ti sono grata, ti do un'ultima indicazione. Guarda che metteranno le mani sui conti bancari con il denaro elettronico. La scusa che serva a trovare gli evasori fiscali è una balla. Se vogliono davvero far la lotta all'evasione fiscale, facciano pagare le multinazionali come Amazon che pagano soltanto il 3% di tasse. Quindi fratello, siccome non ti voglio rubare del tempo, ti informo che ora per un po' di tempo è meglio che non ci sentiamo. Rifletti, rifletti.